Dunque, il roaming, lunghi anni, prima ne abbiamo abbassato i costi, poi abbiamo detto vale solo per voice e anche per data, quindi l'invio anche di documenti. Finalmente, qualche anno fa arriviamo al punto dolente, critico. Si decide una data dopo la quale non si giustificava più questo sovrapprezzo per le chiamate che andavano da un paese all'altro quando tu. Allora abbiamo detto deve essere like at home, come a casa tua, telefoni col telefono italiano dal Belgio, come se fossi in Italia, come a casa tua. L'abbiamo fatto e poi, una volta che il Parlamento l'ha deciso, bisognava negoziarlo col Consiglio. E lì è stata veramente, veramente, io rappresentavo il mio gruppo dei socialisti democratici, ero la shadow di quel provvedimento, ho dovuto forzare anche un po' la rapporteure popolare spagnola, che insomma, sì, anche lei voleva accorciare i tempi, ma sai, la Commissione diceva, certo, la Commissione diceva prima di fare questo abbassamento dobbiamo fare la riforma del mercato all'ingrosso, perché le compagnie aeree, per consentirci di coprirci anche fuori dall'Italia, compro le altre compagnie delle quote. Allora abbiamo detto, benissimo, quanto ci mettete? A un certo punto per votare abbiamo detto, giugno 2017, stop. Quando abbiamo fatto quella scelta, che era un sei o sette mesi prima, per dare il tempo di fare questa riforma. Devo dire che quella notte abbiamo firmato di notte l'accordo col Consiglio e io ho forzato molto, certo, ci ho detto, prima di chiudere, o ci state così, oppure io aspetto la prossima presidenza. Invece la presidenza di turno voleva chiudere, abbiamo preso un po' per la gola, anche perché io sapevo, per essere onesta, che se tornavo al mio gruppo dei socialisti democratici dicendo che non l'avevo spuntata, non avrei avuto entusiasmo, quindi avevo un impegno politico su quello e sulla net neutrality. Piccolissima cosa, molti giovani, soprattutto i viaggiatori, quando è entrato in vigore hanno detto, sì, bene, ma però mancano le chiamate internazionali, cioè se io col telefono italiano, telefono dall'Italia in Belgio, pago ancora perché ho le chiamate internazionali, se invece col telefono italiano vengo in Belgio e da qui chiamo un altro paese, like it home. E allora ci mancava questa cosa, col codice che abbiamo approvato settimana scorsa delle telecomunicazioni in Parlamento, abbiamo stabilito che ci deve essere un tetto massimo, mi pare che 19 centesimi, adesso non ricordo, un tetto. Quindi per ora le abbiamo abbassate e ridotte le chiamate internazionali, lo dico a quelli che se ne aspettavano questa seconda parte, parte che l'abbiamo avviata, non l'abbiamo conclusa, ma anche per roaming è stato così, prima abbassi, stabilisci un tetto e poi gli dai il colpo finale, diciamo così, nel senso di dire basta. E questi sono provvedimenti ovviamente interessanti a tutti i cittadini perché hanno un impatto sulla vita delle persone, quindi sono quelli che poi... Sì, sembra una piccola cosa, ma ti dà l'idea che tu sei proprio in uno spazio comune, se... No, no, anche perché molte compagnie comunque ci mangiavano sul roaming, quindi... Sì, perché poi era ingiustificato quel prezzo, siccome però l'avevamo messo nei loro bilanci, siccome dicevano abbiamo comprato il mercato all'ingrosso alto, benissimo, riformiamo quello con delle tariffe regolate, insomma ci siamo riusciti. Va bene.